Oltre a 7 milioni di luminari e giocattoli natalizi destinate da libera vendita carenti di contenuti minimi informativi e obbligatori per legge potenzialmente pericolosi per i consumatori sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Cosenza. Questo è il bilancio dell'operazione prenatale protetto al fine di prevenire la commercializzazione di prodotti nocivi destinati agli acquirenti ignari del pericolo. L'attività svolta dalle fiamme gialle ha permesso di individuare diverse imprese gestite da soggetti di nazionalità cinese dislocate nell'area urbana a Cosentino ed in quella Silana che nel periodo precedente a quello natalizio si sono rifornite di ingenti quantitativi di articoli a tema sospetti. I primi controlli si sono svolti nei confronti di imprenditori che hanno posto in vendita luci natalizie fabbricate nei paesi dell'area asiatica prive delle necessarie certificazioni sulla sicurezza. Arrisalendo la filiera distributiva ulteriori controlli sono stati effettuati nei confronti di aziende all'ingrosso venditrici dei benesimi prodotti. Nel corso degli interventi i finanziari cosentini hanno rinvenuto milioni di luminarie costituenti veri e propri impianti di illuminazione avvolte in bobine dalla lunghezza di centinaia di metri pronti ad essere vendute ai clienti in violazione delle prescrizioni sulla sicurezza e sulla trasparenza del codice del consumo. Le luci sequestrate, realizzate in varie forme e colori richiamanti simboli di Natale sarebbero stati destinati al decoro degli ambienti domestici sia interni che esterni ed avrebbero esposti i consumatori al rischio di incidenti o cortocircuiti derivanti dal possibile surriscaldamento delle guaine protettive. Altrettanto pericoloso per la salute degli acquirenti, soprattutto per quelli più giovani, i giocattoli natalizi funzionanti elettricamente connotati da estrema fragilità a causa della scarsa qualità del materiale utilizzato per la costruzione degli stessi e sprovvisti delle istruzioni ed avvertenze per l'uso senza rischi. A conclusione dell'operazione sono stati posti sotto sequestro appunto oltre 7 milioni tra luminari ed altri gadget natalizi e legali rappresentanti delle 7 società sono stati segnalati alle competenti autorità amministrative per l'accertamento delle conseguenti violazioni amministrative e la confisca dei beni.